Bentornati fratelli di tuberanza in un nuovo episodio su Dragon Ball Z Kakarot dove spero che in questo episodio vedremo la fusion tra Goten e Trunks ma prima di continuare lasciate un bel pollicione all'insù per supportare questi video, grazie mille Vai! Scena animata raga, godiamocela e speriamo che perlomeno la roba della fusion sia stata fatta come dio comanda e non come quella cagata del Super Saiyan Ma non è vero! E scusa, e tutte le trasformazioni di merda l'hanno tagliate? Ma no, era la parte più divertente Va bene Sì 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 Ah, ok Questa dovrebbe essere la parte In cui Majin Bu si sdoppia Dalla parte cattiva Sparavano al cane È vero, è vero, è vero Mi ricordo Svelti, eh, Birby Vabbè, questo pezzo ve lo ricordate, no? In cui Mr. Satan va da Majin Bu E fa amicizia E trovano sto cagnolino Il cagnolino era bellissimo, raga No, non lo sparavano al cane? Ma io mi ricordavo che sparavano al cane Vedete il fumo che sta uscendo? È la parte cattiva Oh! S,andinavarà Tė lastigia Tėlia Dėlia Estima Ora mi ricordo male raga Questo è cattivissimo Adesso inizia la parte bella Mamma mia quanto è figo ragazzi Quanto è figo Super Bu Bello da Dio Bello da Dio Bello 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 Ah, se n'è andato A quanto pare E se non ricordo male Super Bu Era diretto proprio qui Dove fece poi quella mossa con tutte sfere Eccolo Arriva, arriva Che bestia Dove fece poi 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 Beh, lo hai invitato a nozze Tutto questo per non svegliare Goten e Trunks Tra l'altro Eccola Mamma che bella Sta mossa è bellissima Vava già così e tutte le palline che piombavano fuori Uccideva tutti Tutti morti Tutti morti Tutti morti Troppo cattivo Troppo cattivo Mi piace un botto Mi piace un botto Tutti morti Tutti morti Ah ok Sì Combattevano qui Che poi raga Non so se vi ricordate Con il combattimento Distrussero la porta Della stanza Dello spirito E del tempo Mamma Jinbu Con Laura Riuscì ad aprire Un varco Temporale Stessa cosa Goten Stessa cosa Ve la ricordate No? Si combatte? Ok Belli 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 Si combatte? E vai signori Siamo Goten Contro Super Buu Io inizio già mena Livello 70 Contro 69 Vabbè Dai Ci sta Fai danni Ci sta Ci sta Ragazzi è fortissimo Ragazzi Goten È fortissimo Ok L'ho colpito Vai Fantasmi Vi è qua Finito Ragazzi Goten È fortissimo La mossa Quella delle ciambelle Che ti blocca È assurda Wow Troppo forte What? Esperasse Beh Mi Fai Quot Mago Ma B peł Fai Quot Sono Quot 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 ecco che so cosa succede a fare gli scherzi ecco che non è possibile che ci sia un po' che non è possibile ecco, ci sono tutti i nostri, potete vivere sempre qui e vivere sempre qui in questo mondo non c'è nessuno mi piace ci sono Occiaio Qu'è qui? Non è Ma cosa diciamo? C'è un'escrizione Ah, vecchio Ma, tu C'è un'escrizione Non è un'escrizione C'è un'escrizione C'è una roba C'è un'escrizione esatto che cringiata ecco bravi 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 c'est pas la main c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas mamma mia quanto sei figo mamma mia regal super saian 3 è la forma più bella di tutti rai al di sopra pure dell'ultra istinto super saian 3 tutta la vita e che ne so c'est pas 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 dai bum 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 minchia raga quanti danni gli faccio tieni ciambellone Minchia quanti danni che fa Boom E' solo che consuma un botto d'aura Va bene va bene No raga fa malissimo Gotenks è fortissimo Sta mossa mi fa proprio il solletico fra Allora aspetta che facciamo così Ciambella E poi gli faccio la scarica di missili Che è fortissima que Guarda quando li tolgo Torna dietro Va bene Beccati questa fratello E' fortissimo raga E' fortissimo Dai perché gli dici i segreti? E ora finisce la trasformazione Piung Vabbè voglio Chi l'avrebbe mai detto? No vabbè con Gotenks e raga gioco Che una meraviglia Ha le mosse ideali E' tornato E' tornato Gohan sulla terra raga L'allenamento è finito La cacca delle rane Bello 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 Sarebbe un peccato Se venisse assorbito da Da Majin Bu Vero? Eh si Eh prega prega Si riferisce a Kaioshin E al vecchio Kaioshin Quello che gli ha fatto Tutta quando la tiritera